Nono try capo vediamo Fortunatamente abbiamo fatto la fatica prima Però serve Brock bro Serve Brock bro Serve Brock bro Non bestemmio più per due mesi Se mi fate fare Brock a sto try Al 9 Il numero 9 Il numero che avevo sulla maglia gli ultimi anni che ho giocato Anche se ero terzino e 9 ce l'hanno gli attaccanti Però voglio dire Capiamo 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 bro Capiamo Però non è anche questo robot Onestamente Fa un po' cagare bro Ha poco attacco e non ha mossa Va a cambiare Prolly si fa autoflub Ma vaffanculo Trix Va su Chiari Maroni va Sì o per Tonge Allora faccio Brick Break O faccio Seed Flare Secondo me Seed Flare la più sensata Non farei Close Combat ora Ah no a parte che lui è vero che ha anche Fire Facciamo Brick Break Cazzo dico Brick Break prolly Close Combat Il punto è che Close Combat ci riduce le difese bro Non mi va di farlo Brick Break qua Faccio Close Combat Una mano arriva Un sacco duro Abbiamo anche l'Alar Candy da usare No worries capo L'unica cosa è che non abbiamo mosse Non sale male Non abbiamo mosse però Ah secondo me dobbiamo scautare il fuoco Tanto abbia 24 di speed Il fuoco va scautato sempre Altrimenti non le faremo mai quelle carte Anche perché secondo me La carta da Creepy non la faranno tutti Cioè il solo buio e poi fuoco buio La fanno in pochi Quindi secondo me il fuoco È da provare a far subito Chiaro rischiamo Però abbia 24 di speed bro Cioè Dobbiamo provare a fare la carta del solo fuoco qua Poi se becchiamo uno che è debole a lotto C'è anche Close Combat Tipo Loadred ci possiamo anche fare Close Combat Che lo shottiamo Cioè ci possiamo pure fare Close Combat Che lo shottiamo questo Se vogliamo Forse Genese Pabro Cioè non ora chiaramente Prima voglio vedere i Pokémon Stavo un attimo cambiando la song Scusate E' un'altra persona Che se ci sono i preferenti Cioè non ho poi Non posso prenderlo ora Sarebbe da fare una Confusion Il punto è che magari lo killo Non penso Però magari Non dovrei killarlo C'ho 8 Gravity fa merda Madonna Terra Allora quindi qua non c'è il fuoco Vi abbiamo visti tutti e quattro No? Quindi ottengo Kingdra E non rischio Provo a killare un Selvatico Oppure provo a Dobbiamo fare la fatica dei due Coleotteri Non nel bosco Oltretutto Quindi andrei un attimo A vedere nel bosco Intanto se c'è un coleottero Nell'erba Perché quella Cioè quella cartiglia Dobbiamo provare a fare E non è scontata Dobbiamo cercare anche A Snorlax Qua nell'erba E' vero E' Electroverse Che rischio che mi killi lui All'otto Ragazzi Cioè non è così scontato Se lui c'ha delle mosse C'è caso che mi killi lui A me Cioè Questo è bello a distanza Non ha un gran attacco Ma è bello a distanza Sono splittate bene overall Serverebbe una fisica in più Però sono splittate bene overall Tanto vedrei qua Ah l'hanno fixata la roba Che si vede ogni pokemon Ora Dragonair Dobbiamo vedere se c'è un coleottero No Ha poco attacco 18 al 7 Non è poco Ok non c'è il coleottero Quindi Cosa voglio fare Vado a scoutare l'altra erba Vista la speed E vedo se c'è uno Snorlax Perché anche quella lì Di Snorlax Arcane e Ariama Sono da fare zio Cioè Quindi secondo me Vedo l'altra erba Se c'è un più veloce Non scouto nell'erba Dove c'è il più veloce Farò così Secondo me Un vegetale come alcuni clown in chat Porco dio Fibas Fibas Schappeton 25 24 No 25 dicembre bro Fra un mese e tre giorni 25 Ora non 24 Ancora posso essere bebiato 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 un po' un termine Però Diciamo Capito Hai capito il discorso Hai capito il discorso Prima o dopo Ho capito ragazzi Il punto è che non abbiamo neanche mo' Ok 5 su 5 visti Non c'è Allora per ora L'Ectavire La cosa Cerco Snorlax Per la fatica Zitto Nani Ma tu Per favore Il Perianido Cosa chiamano il Perianido Non è detto che livelliamo killando l'Odred Ve lo dico Anzi secondo me non livello Secondo me devo vedere gli ultimi due Pokémon di Stairba Ok E Io lo blinderei Io lo blinderei Io lo blinderei Sto Kingdra ragazzi ha solo Brick Break e Close Combat Cioè E impara due mosse prima di Brock Quasi lo blinderei Anderei per il rischio di blindare qua Merda Sai che non lo so E in caso c'è l'Ectavire all'8 Oh Kingdra L'Ectavire 22 HP Energy Ball Flame Trower For Spell Allora Possiamo killare un selvatico Cosa kill lo però E questo è buono eh raga E' decent Quanto meno C'è Brellum no? Ha troppa sfida Però non è un brutto Pokémon E' meglio del Kingdra secondo me così Perché questa Questa almeno ha le mosse bro Anche Gengar Questo qua almeno ha le mosse Kingdra aveva solo Brick Break e Close Combat Cioè Becchiamo uno spettro con Seed Boh E' vero che i Pokémon le imparano Cioè se non ci fa fuggire Quindi non rischierei in quell'erba Dove c'è un ipotetico più veloce Onestamente Scusatemi che senso ha Erano tutti lì però Boh Rega potrei rischiare L'Electavire anche Però questo non è male Secondo me Ha un buon moveset Non mi fa neanche livellare Livellare solo l'Electavire Solo che andare sull'Electavire Rischio di crepare bro Cioè Quindi non mi va di rischiare di crepare Giusto per Cioè Piuttosto lo trust Ci crepo Trastandolo Che crepare Rischiandolo di cambiare Si è già morto una volta Con il Kingdara di prima Che Ripeto La solo Earthquake E l'attacco speciale Era più alto dell'attacco Però Merda Pony si è già preparato I tabellini Per i cammini Chi da più ex Ma vuole proprio stare Andati ragazzo Brode Ho le tabelle Sono buone Le tabelle Brode Il Luca Comics È andato molto bene Bro Abbiamo giocato a basket Non segno Non segno l'ability C'era la rain Mi sono girato verso la chat Ma Mi sembrava di aver visto la rain C'era la drizzo L'ho visto male Dio cane Che non ti segno l'ability È una merda Perché non posso leggere la chat Che Ok ok Allora È roll out secondo Davvero bro È da far flamethrower Perché dopo mi devo curare Se resisto Se non muoio Cazzo Oh buono L'abbiamo anche burnato Si gode Mi ha bebiato bro Cazzo A quanto pare Aveva più Weatherball Bella Qua mi curo Per forza Ragazzi Che devo fare Eh sì È solo che Me lo ricordo Che ha drizzo Tanto No worries Sai che comunque Forse è meglio Flamethrower Considerando che Ha comunque Molta più power Di Forse pelme Non è di contatto Quindi Porco dio Proviamo a bebiarlo Cazzo di Kingdra L'avevamo sta run No Ah brick break Solo Ok Tecnicamente Non è un problema No Ha brick break E Close combat Che dava noia Wait what Ha un'altra ability Rispetto al mio Allora Ha un'altra ability Sto Kingdra Il mio non aveva Quell'ability lì C'è crappo In chat Ah c'è creepy Bella crappo Bella crappo Merda Lascia stare Sono marcio Bro Grazie Rocky del prime Grazie brother Hai lasciato una grande Content creator Capo Energy ball Prima O dopo Aia Bello Bello si va Al 13 Cazzo Wingull Io farei Energy ball Ragazzi Non me la collo Di Oggi finisce male Dite capi Non lo so Sai Prossimi giorni Faremo anche la challenge Una challenge Su FireRed 2503 Devo vincere tre volte Se non vinco Che me l'ha provata la chat Eravate casati L'altro giorno Se non vinco Devo giftare 400 euro Di sub qua Prossimi giorni La cominciamo Madonna Puttana Finirà male Ah è finita È finita Infamia E se vinci Flacco ha già detto Che ne gift a 100 Lui Per dire Se vinco Eh non lo so Per forza Rollout Secondo me Dragon Breath No Non lo insegnerai Cioè Abbiamo più attacco fisico Keep all moves Io farei Insegnerei Rollout Mi sono perso FireRed normale Ho 2500 try Ho tipo 6 gettoni Devo vincere la Lega Tre volte Se non la vinco Tre volte Devo giftare 400 euro Di sub in chat Beh l'Aragon Ma se solo fossimo Un glass cannon In attacco speciale Quanto sarebbe più easy Ste run Pulito Capo Forte rispetto Nanni Voglio dire No Di nuovo Tu no Bro Basta Codio Faccio rollout Tanto è una force Pelma Dopo Bella security Bella Bezza Kangaskhan For Spelm Che palle Quasi quasi Provo una Flamethrower Bro Non lo so Ha molta difesa Lui Mindset capo Mindset capo Mindset capo Mindset capo Mindset capo Scolastico 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 Broly Devo giocare A basket Col padini Brode Buono Buono su questo No maturo Capo E Hazelf Merda Che palle Bro Sta roba Se mi burnava Bestemmiavo Te lo dico subito Bro Mamma mia Che abbiamo Illuminate Troviamo un Pokémon Ogni passo Siamo ok Rega Abbiamo fatto Una fatica Gli diamo La certi Berry Ora Ma gli darei O la Custop O l'Apicot O che cosa gli diamo Gli darei la Custop Berry Giv Boh Non lo so Ragazzi Cioè Prima ci sono stati Robati l'ultimo Trainer qua Voglio vedere Adesso come vengo Robato Già Ma Mamma mia Che palle Bro Non rischiamo Il contatto Andiamo di Questa Buono Ci due Dai Fammela Sta Sprout Bro I swear I swear The god Io forse Proverei una Trower Qua Ora Charm Ok Farei Trower Again Non mi devi Inculare Adesso Sono già morto Prima Ed è Sprout Fatta È Sprout Fatta Capi Con calma Con calma Sprout Fatta Sprout Fatta Capi Ah L'MT Aspetta Vediamo Wing Wing Attack Su rollout Lo darei Su rollout Tanto rollout Mi locca Non la faccio mai Rollout Non la faccio mai Perché mi locca Quindi È brutta E poi missa Anche Quindi Bet Non so se abbiamo fatto Già le bet Per brocca Altrimenti aspetto Un attimo Si parte Giù Uno Evitiamo il contatto Energy ball Buono Tu bla 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 Che sghè Battaglia Ai mamà Ai mamà Non è la mosse Secondo me È molta Difesa speciale Uno Evitiamo il contatto Trauer again Merda No bro Che pa Che sfiga Ok Giù questo Giù questo Capi Ed è Out of Brock Il capitano Bro Proprio lui così Out of Brock Pazzesco Pem 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 Out of Brock Arrestatemi Cazzo Pem Grazie a tutti